E' la moglie di un detenuto, la 23enne, gambizzata nella notte tra giovedì e venerdì in via Venezia a Taranto, mamma di un bambino piccolo. La donna è ancora ricoverata al Santissima Annunziata, con 30 giorni di promiosi. Al pronto soccorso, la sera della sparatoria, è stata accompagnata in moto da un amico che però poi ha fatto perdere le proprie tracce. Si è stato un agguato, certamente un caso anomalo, visto che la vittima è una giovane donna. Ascoltata dagli agenti della squadra volante, la 23enne si è mostrata fin da subito poco collaborativa. Non avrebbe fornito, infatti, elementi particolarmente utili alle indagini. Certo è che uno sparo l'ha raggiunta, perforandole la gamba destra. Che la ferita sia provocata da colpo o d'arma da fuoco, lo hanno stabilito i medici che l'hanno presa in cura quella notte. Pochi gli elementi significativi anche sul luogo della sparatoria. La ricostruzione dei fatti, insomma, è un puzzle cui mancano ancora tanti, troppi tasselli. Restano aperte ancora dunque tutte le piste, dall'agguato all'incidente. Potrebbe essersi trattato di un colpo partito per sbaglio, non indirizzato a questo punto ad un bersaglio preciso.